Secondo voi Mbappé, diciamo in proiezione futura, è potenzialmente un giocatore che può fare ancora più di Messi e Ronaldo? Cioè tra dieci anni noi saremo qui a dire Mbappé è a livello di Messi e Ronaldo per quello che ha fatto in carriera o addirittura superiore? O secondo voi non ci arriverà mai a quel livello? Allora, superiore no perché non gli daranno mai sette palloni d'oro, almeno che non vinci tre coppe dei campioni come Pelé. Però sì, secondo me sì, lo metteremo nell'Olimpo del calcio, poi sarà chi di dovere a dire chi prima, chi dopo, a uno piace più uno, a uno piace più l'altro, rimarrà nei dieci, quindici, venti, fate voi nella storia del calcio. Ma poi la cosa che mi stupisce più di Mbappé è proprio la concretezza. Quello che differenzia Mbappé da tutto il resto degli esterni offensivi è proprio la cattiveria nel far gol. Mbappé va via, doppio passo, ti lascia secco sul posto e poi va a calciare in porta per far gol. Non gli interessa, la passa dentro, cerca l'assist, cerca il gol bello, fa gol, punto.